ciao ragazze ciao a tutte e tutti come state spero bene nuovo video blog baracca e grigio tutto bene io sì mi vedete con i capelli perché mi ha fatto la doccia e tutto il resto e niente mi vedete in pigiama perché sono in pigiama non so se si capisce dalle snoopy si vedete il pigiama di snoopy eccolo qua e niente era per dirvi semplicemente come fare un video blog baracca e finalmente ci sto riuscendo ma va sì allora ragazze oggi non sono uscita tutto il giorno perché devo fare altre cose pulirmi la casa che era anche importante pulirsi la casa oddio che caldo che sto avendo vabbè sarà perché in casa mia c'è un caldo allucinante un caldo veramente strepitoso però vabbè strepitoso non direi però siamo lì c'è caldo e niente ragazze e ragazzi sì ho caldo ma sto bene non ho febbre ci mancherebbe solo quello mi ha messo questo bel fermaglio che anzi mia nonna mi ha pettinato perché io con i miei capelli ormai non ci capisco più nulla e mia nonna intanto mi ha messo questo bel fermaglio che non so tanto quanto si veda eccolo qua già intanto mi ha fatto le sopracciglia per non rimanere troppo troppo scandalosa ovvero troppo drasandata mi ha fatto le sopracciglia e mi ha messo un po' di burraca o null'altro non mi sono truccata proprio ho solo fatto una pena di ridefinizione alle mie sopracciglia tutto il resto è così con questi capelli così che forse a voi piacciono o meno ma io mi piacciono così devo dire la verità non sono brutti per niente sono ben puliti pettinati sprogliati all'avanguardia bene sprogliati ripetiscono l'ho fatto io ma me l'ha fatta mia nonna perché mia nonna non voleva vedere con i capelli tutti annodati tutti mischiati tra loro no non voleva ordinata e allo stesso tempo con i capelli sprogliati ecco cosa vuole dire vabbè il corpo me lo lavo tutti i giorni ma la testa una volta o due volte a settimana anche perché sono tanti questi capelli quindi vabbè lasciamo vedere quando vabbè quando ero piccola me li lavavo tutti i giorni adesso siccome che ho anche altre cose da fare non riesco a incastrare anche il lavaggio dei capelli tutti i giorni però una volta ogni tanto me lo vado dal parrucchiere me li faccio fare direttamente dalla parrucchiera quando voglia perché tutti i giorni si può fare perché costa uno chiudere la testa andare dal parrucchiere non so voi ma da me nel mio paese lavarsi i capelli voglio tagliuzzare oppure fare una messa in piega o addirittura tingersi lì sono un sacco di soldi che se ne vanno via non so se mi conviene quindi no fa tutto bene non tanto la parrucchiera di quando ero piccola io anzi lei è la mia parrucchiera personale da quando ero piccola quindi top mi piace questa cosa infatti lei non mi sopporta quando i capelli tutti messi incasinati disordinati non può vedere dopo della verità ma manco io per questo mi sopporto con dei capelli tutti che fanno non mi piacciono diciamo sono disordinati come oggi sono belli ordinati puliti proclamati e addirittura ribadisco messi belli in ordine e sprogliati era ora finalmente ho messo un po d'olio era il vive l'oreal che è quello sì evviva esatto quello che ho visto anche video di non mi ricordo il nome aiuto eppure la guardo di tanto in tanto questa youtuber non è molto famosa ha un canale piccolino però se la ritrovo ve la lingua qua sotto nelle info box delle informazioni cioè nel video di informazioni se mi ricordo caso ma guarda nel video delle consigliate non sono le mie iscrizioni guarda le mie iscrizioni se la trovo che adesso non mi ricordo proprio dovrebbe avere una gentile dove mi progetto le cose che voglio dire cioè io le scrivo però preferisco ricordami la mente ma molte non mi ricordo quindi ecco qua c'è la mia agenda o c'è un'altra di là che dove l'ho messa ah è di là già niente quindi in teoria dovrei scrivermi tutte le cose che mi potete guardare tutti i canali tutti i progetti che ho che mi sto continuando a scrivere ma molti me li dimentico e vabbè buona lì ciao ci posso fare non muro nessuno ma a me dispiace sinceramente non potervi accontentare tutte cioè poterli accontentare tutte perché di una ho visto la pubblicità no che pubblicità no vabbè sì in un canale youtube stavano per farlo crescere o farla crescere sono ricordo di chi e hanno fatto il nome di cui io non ricordo ma la memoria quella che quindi se mi inganna che ci posso fare quindi fatemi sapere qua sotto i commenti e mettete appunto un pollice all'insù e col tasto giù se va ovviamente di iscrivervi al mio canale youtube attivate ovviamente la campanella per non perdere i prossimi video aggiornamento e seguitemi su instagram non vi dico il nome perché tanto lo troverete se vi va di cercare su instagram metto tutto se mi ricordo nell'info box ok o nel montaggio vediamo adesso come viene meglio a me quindi nel montaggio non so solo metterò forse nell'info box è meglio la chiocciolina con il nickname della mia della chiocciolina mi metterò il nome del mio profilo nickname instagram e anche di tik tok ok poi cos'altro dirvi ah si metterò anche le chioccioline dell'utente della persona che vi ho citato anzi che non vi sono riuscita a citare non vi sono riuscita a citare in quel momento ma pazienza quanti minuti siamo ah va benissimo sei minuti già ce la posso fare non voglio fare un video troppo lungo perché poi non so se me lo guardate quindi andrò a stringere un po' quello che voglio dirvi allora oggi a parte pulire la casa tutto quanto mi sono dimenticata e me come sempre di pulire le vette del bagno ma vabbè quello farò un altro momento sono le 3 10 aiuto e quindi nulla ragazze e ragazzi non lo so speravo di farvi un video di quelli pulizie motivazionali ma non ne trovo mai il tempo e nella voglia perché ogni volta che lo faccio o c'è un inconveniente o devo smettere perché alcuni miei parenti non tutti si vogliono ripresi o non so come manco io riprendere per non riprendere i miei quindi giù di lì va là che non riesco mai a riprendere dove voglio riprendere perché o si mettono da una parte o si mettono dall'altra così la non riesco mai a riprendere quindi mi devo organizzare un po meglio per fare questi video motivazionali è vero il mio canale parla di trucco di make up ma io voglio anche variare non solo nel trucco ma anche in altre cose voglio fare un po un misto lo so che non guarderete sempre questo canale canale youtube però ci tengo io a guardare e a fare ciò che mi piace a me come la video in video pulizia motivazionali svuota la spesa non solo quello dove compro il trucco perché di trucchi ne ho fino all'osso del collo ragazze è la verità sono troppo piena di trucchi infatti molti mi propongono vuoi questo vuoi quello no sono piena ragazze miei ragazzi miei sono piena di trucchi che veramente sono troppo troppo piena quindi voi direte quanto sei rigoroica lo so sono rigoricissima però l'ogoricissima si può sentire però è la verità quindi volete non volete ho tanti trucchi quindi anzi devo fare il giro devo farvi il giro di tutte le palette che ho non so se fare il declattini ma non penso neanche di farvelo perché sarebbe inutile sarebbe una presa per i fondelli ovvero prendervi in giro quindi dico no non faccio i declattini ma faccio il video del giro ogni video che faccio mi trucco e faccio il giro le palette così almeno non devo stare lì oddio quanto sto gesticolando vabbè niente si dicevo ogni video che faccio mi faccio il giro le palette faccio il giro la ruotazione a ruotazione di palette non so che titolo inventerò ma per non stare lì a farle ammuffire meglio le uso anzi le uso senza registrare video ma anche se non ha senso io le voglio registrare anche facendo truccandomi ragazze non è brutto fare questo video questi video così l'ho visti da anna morana si anna morana poi l'ho visti da carolina bonanni l'ho visti anche da matilde baldi e tante altre youtuber si anche da anna magni anna magni è bravissima una bravissima youtuber ha superato anche mille iscritti sono visto male però mi pare di sì sì anna magni e tante altre vabbè non sto là a dilungarmi perché sarebbero una cosa esagerata a nominarvele tutte a nominarvele tutte aiuto ce la posso fare comunque sì volevo dirvi semplicemente che finalmente sono riuscita a nominarvi alcune youtuber con cui io seguo tanto poi c'è il mondo di serena se non ho capito male sì che non sono ancora riuscito a passare nelle scorse nelle scorse settimane sono riuscita a passare poi oggi ancora nulla in questa settimana boh sarà perché l'ho troppo impegnata in questa settimana appena posso tra virgolette se mi riesce mi organizzo e passo anche dal mondo di serena sono passata sul canale di big come si chiama max ha 50 anni youtube sì max ha 50 anni youtube è troppo bravo adoro bravo youtuber e poi che altro paolo bene non ne faccio altri nomi perché non li posso ricordare tutti vuoi ricordarmi il mondo di no vabbè quello l'ho detto come cavolo si chiama le martinos carmene d'angela bravissime adoro e poi tutte le altre che ve le vorrei dire ma non voglio dimenticarmi nessuna ragazze quindi vi nomino tutte così siete tutte nominate anche se non vi nomino proprio nome cognome interno del canale non me ne vogliate perdonarmi ma siete tutte fatte che siete già nominate così siamo a posto perché non so nel mio infobox cosa tutto ci starà sul mio infobox di questo video quindi non sono sicura di farci starvi di farvi stare tutte comunque siete tutte nominate in questo in questo video come se fosse un video tag fate che sia un video tag fate che sia un video tag fatemi sapere sotto i commenti a proposito se questi capelli questa pettinatura così che mi ha fatto mia onna vi piace o se dovrei farla con la chignon io penso che questa pettinatura così che poi a me non mi sembra tanto una pettinatura ma va bene lo stesso fa lo stesso fatemi sapere se troppo trasandata tutta sciolta perché loro mezzi raccolti allora fate quanto mi non l'ha raccolti da qua da qua dietro l'ha fatti con un con questo permaglio qua che è legato ai capelli ovviamente come giusto che sia e tutti gli altri capelli l'ha tutti lasciati sciolti fatemi sapere sotto i commenti se vi piace questo questa pettinatura ditemi se è bella o se dovrei cambiare di nuovo pettinatura se lo avete chignon treccine non ve ne parlate perché mia nonna non è capace anzi non sono capelli da treccine questi l'ho fatto anni fa le treccine ma sono della scomodità per me allucinanti poi non sintetiche grazie dai no erano sintetiche non l'ho voluti fare già poi cosa dirvi nulla a parte questo sono prodotti sono prodotti che sto utilizzando sempre quelli per i capelli sono della fructis che mi piace molto come prodotto e poi garnier la maschera della garnier è quella col tappo si vabbè ci siamo capiti ultra dolce garnier è molto buona per la maschera perché adesso sono me sono giorni o una settimana in più che non sto più utilizzando la maschera prima poi riutilizzo quella maschera perché non la voglio far buttare un filo o cose del genere nel senso non voglio farla troppo come dire non voglio farla troppo insomma per non tirarla nelle lunghe non voglio farla guastare già il paio è partito da un bel po di tempo da quando la sto utilizzando ma l'ho accantonata un po l'ho lasciata un po per te l'ho levitata ma la voglio riprendere per poter usare utilizzare e fare un impacco ai miei capelli perché sono troppo spenti adesso non sono più spenti perché ci ho usato ho usato un altro utilizzato un uno shampoo barra balsamo per i capelli della fructis e adesso però voglio utilizzare la maschera al prossimo giro di lavaggio della mia testa utilizzerò la maschera perché così a me i capelli restano più lucenti più profumati e anche più volumino meno voluminosi perché così mi sento troppo voluminosa a voi piaceranno di sicuro ma a me non c'è tanto vabbè c'è si sono portabili così però giovedì sarà il prossimo giro perché sono certa la giovedì lì devo ritornare a rilavare e va bene dai niente ragazze questo era tutto mi guardo intorno perché vedo che ancora c'ho da fare con a fare le cose mie cioè devo spolverare ma si avete capito non ho molta voglia non ho molta voglia ma lo devo fare perché sennò mi ne arrivano gli insetti mi fanno riprezzo va bene comment non so se pulirò o meno lo spolverare ma lo devo spolverare perché sennò veramente qua non ci si fa vita e poi ah mi ha fatto il letter voi non lo vedete però perché siete dalla mia parte siete cioè nel senso che vi ho messo davanti in modo che non possiate vedere cosa tutto c'è attorno a me tranne questa parte qui che è tutta pulire in qualche modo e spostare tutto sia quassù che a fianco e tutto qua attorno vedete quasi tutto da pulire e poi vabbè su non pulisco perché non mi interessa neanche arrampicarmi come una scimmia non ci penso proprio però il resto dove ci arrivo pulisco tutto quanto e poi metto tutto a posto e buona lì niente allora quanto siamo arrivati a 16 minuti video e qualche secondo in più bene ragazze questo era tutto ribadisco se questo video vi è piaciuto seguitemi su instagram come vabbè vi dico seguitemi solo su instagram tutto quanto informazioni le troverete se spirciate nell'info box vi raccomando siete pregate di spirciare nell'info box se vi interessa ovviamente seguirmi su instagram e su tik tok perché a tik tok per chi non ha il tik tok e su instagram o per chi non ha instagram facebook e così via e niente noi un bel bacio ti mandiamo anzi vi mandiamo perché siamo io mia nonna mia nonna non è qua ma in sala però vi saluta perché lei ha visto che mi seguite parecchie non so quante siete ma mi seguite bacio da parte mia nonna anzi un abbraccio più che altro o un saluto come credere anzi meglio un saluto perché lei è più per i saluti non per le viellosità e raga mia nonna ha 80 anni e non è più una ragazzina che fa troppe mielosità ma non è mai stata una mielosa troppo esagerata col saluto un saluto ciao buongiorno qualche e basta così come devo dire non è troppo cioè sociale però non è troppo non si da troppa come si può dire non voglio dire brutte parole sbagliate c'è lei è sociale socievole però cerca di non essere troppo esagerata nel modo di parlare di esprimere esprimere le cose cioè parlare dice giusto ma poche parole ma buone punto ecco lì questo lo vuol dire dice un ciao un buongiorno quello che è poi fa vedere quello che deve far vedere nel video svolta la spesa l'avete vista insomma come è fatta lì quindi adesso già sono 18 minuti che parlo aiuto quindi vi invito a mettere un pollicione in su e o giù come preferitevi a seconda se il video vi è piaciuto o meno e vabbè tanto non muore nessuno se mettete un like o un dislike quello che volete voi commentate qua sotto e fatemi sapere che ne pensate di tutto ciò che vi ho detto a partire dai miei capelli e niente ciao iscrivetevi che il tasto qua sotto che ovviamente è gratuito non so se è qua o qua non ne ho idea e attivate la campanella qualora voi decidiate di aggiornarmi con i miei contenuti youtubiani ciao alla prossima a presto ciao